Quando ho saputo che erano 52 anni che stavano insieme ho provato anche un po' di invidia perché avere una coppia che resiste per 52 anni è un risultato incredibile. Però ci tendiamo a esserci perché quello non era solo un momento di Gianni e Franco, era un momento importante per l'intera città. Avremmo chiesto a 20-30 agenzie immobiliari e tutti quando sapevano che eravamo due uomini dicevano ma poi magari piantate casino, la gente si lamenta. Il nostro sogno era di metterci insieme e di continuare la nostra vita insieme. Ciao Torino, una domanda. Ci sarete il 17 giugno in piazza? Ci sarete perché sapete che è una manifestazione di cui ha bisogno questa città, di cui ha bisogno questo paese, di cui hanno bisogno le persone gay, lesbiche, transessuali, bisessuali, transgender, ma soprattutto tutte le altre persone, quelle persone che ci devono vedere, quelle persone che ci devono ascoltare, quelle persone che devono capire che la nostra lotta per i diritti civili è una lotta non solo per noi, ma per tutta la società.